Penso che la scienza sia il linguaggio contemporaneo del misticismo, che la scienza sia ciò che dimistifica il mistico e se riesce a combinare la fisica quantistica con le neuroscienze e la neuroendocrinologia e la psico-neuroimmunologia, che è la connessione mente-corpo, l'epigenetica, l'elettromagnetismo, tutte queste informazioni danno alla persona un maggiore livello di consapevolezza, quindi utilizziamo la scienza come modello. E penso che il momento in cui usi tradizione o religione o spiritualità o cultura, penso che il pubblico si divida mentre la scienza tende a creare comunità.